San Paolo, prigioniero, sente la solitudine del pastore quando ci sono difficoltà, è solo e mendicante, abbandonato da tutti ma non dal Signore. È desolato ma non amareggiato, così Papa Francesco nell'Omeria della Messa del Mattino a Casa Santa Marta ha commentato il brano della seconda lettera dell'Apostolo a Timoteo, inserita nella liturgia di oggi. È quello che succede anche a Pietro, a Giovanni Battista e più vicino a noi a Massimiliano Colbe, ma il Signore non lo lascia, e lì trova la sua forza. Questa è la legge del Vangelo, ha chiarito il Pontefice, se il seme del grano non muore, non dà frutto. Morire così, come martiri, come testimoni di Gesù, è il seme che muore dal frutto e si riempie la terra di nuovi cristiani. Quando il pastore vive così, non è amareggiato, forse ha desolazione, ma ha quella certezza che il Signore è accanto a lui. Ma quando il pastore, nella sua vita, si occupa di altre cose che non siano ai fedeli, per esempio, che ha attaccato al potere, ha attaccato ai soldi, ha toccato alle cordate, ha attaccato a tante cose, ma alla fine non sarà solo. Forse saranno i nipoti, aspettando che muoia, e per vedere cosa si possono portare con loro. e un tempo, brandori. Ingratmente, Nino Stan. Ingratmente, il voglioare? Grazie a tutti.